Cooperare per costruire un racconto a più voci dell'arte dei paesi che si affacciano sull'Adriatico, moltiplicarne le visioni attraverso una rete transmediale. È un progetto pilota Art Vision, visioni d'arte nell'Adriatico, guidato dalla Regione Puglia e finanziato nell'ambito del programma di cooperazione territoriale europea IPA Adriatico. Obiettivo è diffondere la visione dell'arte sull'arte. Un secondo livello all'insegna della comunicazione dell'arte ha spiegato l'assessore regionale della cultura Silvia Godelli attraverso le tecnologie più avanzate. L'idea di una messa in rete tra le due sponde pilotata dalla nostra migliore espressione dal punto di vista delle arti contemporanee che il museo Pino Pascali di Polignano a Mare ma tutta un'altra serie di attività anche di natura più tecnologica. La sfida è lavorare in modo nuovo eppure coordinato. Le iniziative produttive, circa 150 audiovisivi dedicati all'arte visiva contemporanea, sono prodotti da TV Crews, create appositamente che realizzano reportage, nuovi format e progetti pilota che possono essere fruiti gratuitamente. La Crew Pugliese, che coordina il lavoro e la distribuzione dei contenuti diretta da Nicolai Ciannamea, funziona da redazione centrale con la doppia funzione di agenzia di promozione e fonte di notizie, mobilitando anche l'energia cooperativa di giovani artisti che stanno partecipando da protagonisti. Tra i partner del progetto, la Regione Veneto, Accademia e Ministeri della Cultura di Montenegro, Croazia e Albania.